La comunità di Terranova di Pollino è preoccupata e lo è anche il sindaco Francesco Ciancia. Lo sono perché gira voce che a Terranova di Pollino stiano per arrivare migranti ospiti di due diverse cooperative. Attenzione però, Terranova non è Gorlino e la preoccupazione non dipende dall'arrivo dei migranti, anzi. Le motivazioni sono essenzialmente due. La prima, il comune di Terranova e quindi il suo primo cittadino non è stato avvertito da nessuno dell'imminente arrivo. Secondo, a Terranova che conta poco più di mille abitanti che nei fatti si traducono in 600 al massimo 700, due cooperative hanno inviato alla prefettura la loro manifestazione di interesse per un totale di 92 richiedenti asilo quando un protocollo stilato pochi mesi fa dice che un comune così piccolo non potrebbe ospitarne più di una ventina. Però si sa, l'emergenza è emergenza evidentemente. Il sindaco di Terranova ha organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza e lunedì ha già inserito tra i punti all'ordine del giorno in consiglio comunale la vicenda. Prima dell'incontro pubblico però si è recato a potenza in prefettura. Un primo cittadino che tra le altre cose è anche responsabile della pubblica sicurezza ha saputo, Vox Populi, chiacchiere da bar che qui potrebbero arrivare addirittura a 92 ragazzi, ospiti, migranti. Lo ha dovuto sapere per strada, non ufficialmente. Poi però lei ieri ha fatto un viaggio a potenza per saperne di più in prefettura. Che cosa le hanno detto? In prefettura ho avuto alcune notizie sul numero mi hanno detto che due società hanno partecipato a questa manifestazione di interesse che è scaduta lunedì di questa settimana e mi hanno detto che hanno partecipato a due società una è la Senisa Ospes e un'altra è la San Filippo Nero per un totale di posti tra tutte e due che hanno messo a disposizione 62 e una e 30 alloggi un'altra quindi per un totale di 90 posti per accogliere questi rifugiati e questi migranti. Con tutti i problemi che abbiamo di viabilità ho prospettato per il fatto che da noi finisce la strada abbiamo problemi di spostamento durante l'inverno per le abbondante nevecate è un paese, ho detto alla sua eccellenza, che è un paese che vive unicamente di turismo oggi purtroppo la risorsa principale del nostro paese, l'economia principale è basata sul turismo e quindi questi numeri così imbattanti, così possono creare problemi sociali ci saranno problemi di inserimento se parliamo di questi numeri ci sarà la popolazione non li accetta, la popolazione è inverno ma non perché è una popolazione razzista, torno a ripetere ma perché i numeri sono esagerati sono numeri che difficilmente poi riusciranno ad inserirsi e integrarsi nel sociale. Se vi avessero detto così come tra l'altro dice il protocollo d'intesa stilato da Ministero ANCI eccetera eccetera in base al numero degli abitanti di Terranova arrivano 10 o 20 ragazzi, 20 ospiti il Comune di Terranova cosa avrebbe pensato? Saremmo stati ben felici di accoglierli ben felici e con tutta la serenità del mondo li avremmo accolto come accogliamo i turisti come accogliamo tutte quelle persone che visitano nella nostra comunità ho prospettato un'altra soluzione che se era possibile mandare delle famiglie, dei bambini siamo in modo che potessero inserirsi più facilmente nella società terranovese ecco grazie a tutti